In questo paese le elezioni europee saranno l'unico sondaggio attendibile per capire i cittadini se vogliono continuare ad essere governati da questi partiti che per vent'anni ci hanno massacrato. Poi è chiaro che lo dicano perché evidentemente hanno paura, hanno paura che veramente abbiano delle ripercussioni sulle politiche interne. Poi c'è un altro discorso da fare molto semplice, è il voto più politico che esista perché in Europa si decide gran parte dei finanziamenti che cadono sulle nostre terre. Ed è chiaro che votare alle europee è ancora più importante che votare alle nazionali. Oggi un parlamentare europeo se vuole vale più di un parlamentare italiano.